L'ondata di maltempo annunciata dagli esperti è arrivata puntuale facendo ripiombare la regione in un clima invernale. Temperature impicchiate e neve sulle aree interne e in montagna. Fitta nevicata su Campobasso dove tuttavia non si registrano particolari criticità. Una nevicata che ha determinato la sospensione della partita a Campobasso-Turris. La circolazione sulle strade cittadine è garantita grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e spargisale. Il piano neve della Sea è infatti entrato in azione. Sono in totale una cinquantina i mezzi in circolazione, il traffico regolare un po' ovunque, fatta eccezione per qualche code in prossimità dei centri commerciali, qualche disagio sulla rampa di accesso al capoluogo lungo ingotte dove alcuni mezzi pesanti sono rimasti in panne. Si circola regolarmente lungo la tangenziale mentre nelle contrade vengono segnalati disagi con diverse auto rimaste bloccate nella neve provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Qui invece siamo sul tratto di strada che collega Campodipietra al capoluogo, anche qui strada percorribile. Nevica Campitello-Matese, si circola anche se con cautela. Vento forte sulla costa con raffiche che hanno raggiunto i 70 chilometri orari e che hanno provocato anche la caduta di diversi alberi. A causa del maltempo annulate molte manifestazioni per festeggiare il carnevale.